Ben trovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto. Sappiamo, e ho dedicato qui sul mio canale proprio una playlist a questo tema, che le mappe concettuali sono utili davvero a tutti per consolidare, apprendere e ripassare. In particolare sono necessari e considerate strumento compensativo per chi ha un DSA, un disturbo specifico dell'apprendimento. Ebbene vi segnalo due siti internet realizzati interamente in Italia da due fratelli, Giuseppe Cipolla e Pietro Silvio Cipolla, con cui ho avuto una piacevole, come dire, conversazione epistolare e, avendo valutato di assoluto interesse il loro progetto no profit, ecco i due siti internet in cui trovare mappe concettuali pronte all'uso e curate per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il sito internet DSA Study Maps, sito di riferimento lo vedete in alto, DSA Studi con la ymaps.it, vi danno mappe concettuali divise per disciplina e vediamo la grande quantità di mappe per gli alunni più grandi. Se andiamo invece su, eccoci qua, DSA Study Maps Junior, abbiamo la possibilità, vi riclicco intanto sulla home, di scegliere o tramite il numero la classe della scuola primaria oppure, sempre tramite questa copertina ad anelli, vediamo anche la quantità, le mappe per la scuola secondaria di primo grado, la scuola media. In arrivo è per il momento quelle per la terza, se andiamo a cliccare su prima media e andiamo insieme a scegliere ad esempio, vediamo un po'. Peschiamo dall'elenco, eccoci qua, geografia, gli elementi della geografia, clic, attendiamo qualche istante per il caricamento ed eccoci qua, abbiamo diverse ovviamente indicazioni, tipi di carta geografica, ma per storia avrei potuto trovare i normanni e quant'altro, ecco qui la mappa concettuale pronta, vado a cliccare, la mappa risulta ingrandita, in questo caso come riconoscere, come identificare una carta, se topografica, geografica, il planisfero, dopodiché abbiamo naturalmente la nostra mappa, clic con il tasto sinistro, su salva immagine con nome, cliccando su salva avremo acquisito in formato immagine la mappa concettuale di riferimento. Come è possibile osservare andando sul primo sito nato, cioè study maps, le mappe concettuali per la scuola secondaria di secondo grado, i due giovani studenti, i due fratelli autori di questo bel progetto, mettono in evidenza che la gran parte delle mappe presenti sul sito sono state utilizzate con un celebre software in ambito di SA che è il super mappe di Anastasis oppure con la web app super mappe X. Qui sul mio canale, in questa specifica playlist e rubrica, troverete anche tutta una gamma di risorse che ho censito e di cui vi ho mostrato l'utilizzo proprio per creare mappe concettuali più a schema e mappe mentali più, diciamo, con un effetto invece che strettamente a cascata, in orizzontale a nodi, quindi partendo da un nodo centrale e andando a diramare i diversi contenuti. Bravi ragazzi, bravi anche per aver diffuso in ambito nazionale questo progetto, a cui auguro una ulteriore crescita e un ulteriore sviluppo. Appuntamento sin d'ora al prossimo videocorso sempre dal vostro Andrea Cartotto. Ciao!